vi porto con me a vedere questo pezzo di fondi anche molto bello oggi qua c'è pochissima gente Elena 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 ma non possiamo andare alla chiesetta qua appunto noi stiamo andando verso la chiesetta molto bello la temperatura poi è molto più fresca rispetto a fondi il cielo è ma è nuvoloso ma non porta pioggia non possa piovere almeno non oggi vediamo che è domenica 21 ottobre 2018 stiamo appunto facendo delle prese in questo modo per adesso abbassare un po' la voce per permettere di infatti faccio qualche foto è veramente un bel posto oggi ha un sapore particolare questo posto anche per chi come me non è cattolico ha veramente un sapore molto particolare diciamo che poi comunque il discorso della spiritualità è sempre comunque una cosa molto molto intima e personale quindi siamo veramente in un ambito molto intimo quindi qui siamo davanti a una sorta di refettore qui bene si mangia e si può anche dormire allora vi faccio anche la foto a questo questo è il portone adesso vi faccio vedere qua c'è un silenzio quasi surreale è veramente molto 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 particolare veramente sento soltanto i miei passi mentre cammino è veramente molto molto bello è bello qua sotto guarda che bello guarda che bello adesso ho anche qualche foto così è molto bello qua adesso molto particolare adesso passiamo anche la voce per rispetto a dove stiamo andando non che adesso penso potesse volare però diciamo che qui è molto più particolare adesso qui è molto più particolare adesso questo è questo è il il pozzo qua viene fuori una bellissima foto quest'inverno e lo andiamo a rifotografare poi metteremo le foto nel gruppo meglio troverete nel gruppo le foto è bello sapere che tanti fondani che sono lontani possono vedere queste immagini e possono come stare insieme a noi in questo posto molto particolare adesso stiamo per entrare nella chiesetta e abbasseremo ancora di più la voce è bello si trattisce la mano della rocca Grazie. Molto bello, molto particolare, molto intimo. Grazie. 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 Ecco, siamo appunto, no? Agli esterni con il sapulio di Antonella di Maria di Resa. Torniamo qui con queste immagini. Alla prossima. Ciao.